Partiremo subito con la tribuna di Piazza Quattro Giornate, dopo di che inseriamo con la tetta dello sport. Abbiamo mantenuto gli impegni che abbiamo preso con la Regione, come sempre. Il prossimo step è non fare più polemiche. Siamo in un periodo di Natale, pace per tutti, siamo a disposizione delle istituzioni. Mettiamoci una pietra sopra e siamo aperti a tutti quanti, a chi vuole fare sport. Ma senza polemica, i tribunali faranno eventualmente, se c'è l'opportunità o non c'è l'opportunità, di fare il loro corso.